Ciao ragazzi, oggi sono rientrato in città perché purtroppo è ormai finita questa mia esperienza di studio sui cani da villaggio qua nel Myanmar, la Birmania. È ovvio che in questo momento ormai la foresta rimane solo più un ricordo perché sono appunto arrivato in città per prendere il primo aereo questa sera che mi porterà a Bangkok e ne prenderò un altro per gli Emirati Arabi, un terzo che mi porterà in Italia. Cosa dire di questa esperienza? Bene, qualcosa sicuramente di sensazionale, di eccezionale, poter osservare praticamente, ecco guardate qui uno che vuole praticamente offrirci uno dei tanti tarsi e dei tanti tuttup disponibili. Ecco, poter studiare, vi dicevo, il cane in un ambiente dove può scegliere lui che cosa fare, non è l'uomo che decide per il cane, il cane che si sceglie, è questo padrone che gli dà il cibo ma poi lui può comunque girare la città come preferisce, può cambiare padrone se lo desidera, può interagire con gli altri animali, può scegliere cosa mangiare, dove dormire, eccetera. Ecco, poter studiare queste cose è veramente illuminante per poter capire cos'è che il cane ha bisogno di noi e cos'è che si aspetta dal suo padrone. Bene, questo filmaggio innanzitutto per ricordarvi appunto e rinvitarvi a questo evento che io farò l'1 e il 2 dicembre a Torino dove avrò modo di parlarvi a fondo di questa esperienza perché sicuramente durante il corso emergeranno molte volte tutte quelle che sono state le teorie che io ho ormai elaborato dopo questo studio, ancora più interessante che quello fatto sull'isola di Pensa. Bene, vi ringrazio di avermi ascoltato fino a questo punto e vi auguro buona giornata e alla prossima settimana. Ciao ragazzi, a presto!